Per lavorare nel settore automotive e in particolare nel settore della consulenza in ambito automotive sono richieste caratteristiche molto particolari. Nel mondo della consulenza, soprattutto nel settore di natura industriale, dei prodotti dove io sono in particolar modo operativo, l'industria automobilistica, richiede sia competenze in natura tecnica sia competenze in natura gestionale. Conseguentemente noi facciamo riferimento a persone che arrivano da ingegneria, sia quella meccanica, sia quella gestionale, sia quella elettronica e software, ed economia. La sensibilità economica è molto importante per lavorare nel mondo della consulenza, perché bisogna mettere insieme il business con gli aspetti tecnici e gli economisti, con la loro sensibilità sui numeri, hanno delle caratteristiche che sono importanti per noi. Oltre alle competenze tecniche, rivestono enorme importanza anche le competenze e le caratteristiche più personali. Noi cerchiamo soprattutto persone curiose, perché la curiosità è un elemento importante. Spesso i consulenti si trovano... Spesso i consulenti si trovano... funghi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.